Oh allora? Sicuro? Te la porto domani? Domani mattina? Heeeh Piazzato Heeeh Lo voleva comprare da un altro ma io gli ho detto compralo da me che sei su un zio Eeeh 500 euro non lo trovi da nessuno solo da me Siiiiii Eeeh Eeeh lo compralo da troni ma gli ho detto matta cazzo compralo da me E poi mi ho detto bravo a me bravo Eeeh bravo Eeeh sono ancora più bravo Eeeh Eeeh E poi gli ho detto che glielo ho portato male tanzi domini Eeeh Eeeh bravo bravissimo Eeeh Gli faccio il pacco Ma il pacco? E perchè cosa gli vuoi dare? Dovrò ancora vedere cosa c'ho in panchina Eeeh Eeeh